ciao a tutti e a tutti sono michele volpi di leggere forte e oggi in questi giorni un po difficile vi leggerò che cosa stai facendo sto suonando non si sente aspettami torno subito che cosa state facendo musica aspettate torno subito aspettate torno subito anch'io torno subito ma cosa state facendo musica aspettate torno subito grazie grazie e adesso che cosa facciamo dipingiamo sì ma cosa forse ho un'idea abbiamo letto tam tam boom di frederick ster edizioni babalibri musica aspettate torno subito musica aspettate torno subito musica aspettate torno subito musica aspettate torno subito musica aspettate torno subito